Avvocato, perché dimettersi dal CDA dell'ASP1? La mia decisione è giunta purtroppo a malincuore, era già da qualche settimana che stavo pensando alle dimissioni e venerdì scorso, ormai una settimana, ho deciso di rassegnare queste dimissioni. La situazione è una situazione importante per quanto riguarda l'intera ASP1 di Teramo, era ben conosciuta dal sottoscritto quando ci siamo insediati, abbiamo cercato di lavorare bene e posso dire che abbiamo anche lavorato bene per quello che potevamo fare. Lei è rimasto molto deluso dal comunicato dei sindacati? Il comunicato dei sindacati è giunto lo stesso giorno che io ho rassegnato le dimissioni, adesso capire chi ha fatto prima cosa lascio a voi. È un comunicato che secondo me c'entra ben poco a tutela dell'ASP, perché non meritiamo, non abbiamo meritato quel trattamento richiamando addirittura il commissariamento. Quante criticità ha trovato? Le criticità sono assolutamente tante, ma sono criticità strutturali, non dovute probabilmente, anzi sicuramente, ai CDA che si sono susseguiti negli anni, ma il materiale con il quale i CDA hanno lavorato è quello, ovvero tariffe non adeguate da tantissimi anni. Il costo della vita, come aumenta per tutti i giorni, aumenta anche per le case di riposo e quindi avere tariffe sotto costo rispetto alle spese che si fanno hanno portato chiaramente un debito a maturare, a crescere purtroppo negli anni. Mi rispondo in modo sincero e diretto come lei è abituato a fare. I dipendenti e le cooperative sono a rischio? Io penso assolutamente di no, lì nessuno è a rischio, partendo dagli anziani che sono la priorità. Massima tutela agli anziani e massima tutela anche ai dipendenti. Le mie dimissioni sono proprio mirate a queste, dare uno scossone alla situazione e far capire a chi può intervenire di intervenire al più presto.